Noi non lo dobbiamo usare Ma come finisco? Vai piano piano Non lo faccio andare pure un po' da... No, andiamo prima davanti Facciamo prima davanti, abbiamo un'ora Vai ancora Il problema sarà scappucciare Non lo so No, il problema è pure qua Il mento che se ne scivola Vabbè, ma questo no Ieviamo un po' di tetto Certo, eh Vieni un po' da dietro, facciamo Aspetta Che poi piano piano si asciughe E ci facciamo una seconda passata? Eh, così penso che dobbiamo fare Per renderla pure più consistente Scusate, portati più alla punta del tavolo Così sta più comodo da fare Vieni 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 Faccio scendere ancora un po' qua Però laterale E poi ci passo con il pennello Magari vediamo dove non è andato Faccio sempre scendere da sopra Così ci prende un po' qua Comunque sembra che è tanto Comunque sembra che è tanto Sì perché secondo me lo dobbiamo raccogliere sotto Qua aspetta Questa domani ci sarà la verdetta finale Diciotto ore Ah, ma qualcuno Mario non mi ha perduto visto stanotte Osservi tutti i cambiamenti Che ti succede? Che ti succede? No, no Non ci riusciamo Vedi come si è colato dalla roccia Vediamo quest'altro lato Vediamo quest'altro lato Vediamo di qualche minuto Perché per un'ora è buono Vediamo Vediamo che c'è quella parte della base Che si è attaccata E guarda sulle parti Si sta proprio bene